grandissimi carissimi stimatissimi ciao tutti e bentornati sul canale di saturn 5 oggi giornata davvero interessante da un punto di vista del meteo in quanto abbiamo delle nuvolacce bianche e nere in transito nel cielo sono previsti anche dei temporali nel pomeriggio dunque noi andiamo a cercarci un punto panoramico andiamo a piazzare la fotocamera sony rx 100 mark 6 sul cavalletto per andare a fare un validissimo team lapse buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti